La tigre del farweb che gioca a minecraft, con quel volume che c'è, Duke 4316 Ciao a tutti ragazzi da Nodioke e benvenuti in un nuovo episodio di ECO Che spavento, chi mi parla? Ma chi è? Dove? Eh, dietro di te Eh, sei invisibile, come sempre. Dove sei? Chi sei? Puffo Ciao Puffo, che vuoi? Che vuoi? No, che sta facendo qui? Ho visto che ha cremato, si sta trasferendo Eh, mi sto trasferendo, è certo. Di chi è quel banco da lavoro di lo spacco mille pezzi? Eh, uno che ha cremato per il carbone. Là c'è una piccola miniera di carbone Eh, allora lo caccerò. Vabbè, vado a lavorare, ciao! Ragazzi e benvenuti in questo episodio! Come dice appunto Puffo, qua c'è una piantagione di cacao qua Hanno piantaggiato del cotone Questa cosa non va bene Perché si sono messi in mezzo a tutti Qua c'è uno spazio enorme Dove qualcuno può costruire Invece lui bisogna fare la piantagione di cotone Di chi è sta piantagione di cotone? Adesso Lo scopriremo, perché Ora va bene tutto Io, ragazzi, in questo episodio Farò il trasloco Scappo Dalla mia cittadina, perché guardate Il viola continua ad avanzare Il viola fa sempre parte degli americani Che fa sempre parte degli americani Mi hanno completamente circondato Ho deciso di alzare baracca e buratini E di andarvene Mi trasferisco, ok? Vado ad abitare qua vicino a Chip Che qui non esiste nessuna cittadina Diciamo che sono tutti più o meno singoli Vediamo di fondare una piccola cittadina qua Se riusciamo Chip è già online Quindi si può iniziare a fare qualcosa Manca il muratore in questa cittadina E noi andiamo Vediamo se Zora e gli altri ci seguono o meno Ok? Diciamo che con i claim va bene Tutta la guerra Va bene il divertimento Si sta un po' esagerando adesso Ora Sto claim di cotone Un conto costruisci Fai un'industria E ok Ma claimare solamente Una piantagione di cotone Vaffanculo Ma mettiti nei lati Ma mettiti qua Ma mettiti nell'angolino Non ti mettere in mezzo Bisogna solamente trovare la strada Ok? Allora Cotoletta è di là Noi Abbiamo claimato qua Tutta la zona rossa Questo coso rosso È nostro È un nostro claim Dobbiamo trovare la strada Per arrivare fino qua E fare il trasloco Eh eh Ordunque Ordunque Ora è Nukasin Eh eh Come facciamo? Qua c'è una piccola strada Magari proviamo a seguirla Oddio Una grotta Vuoi dirmi Che in fondo A questa grotta Ci sia una strada? Chi lo sa? Ho mangiato? Eh Oddio Finto anche da mangiare Dovrei prendere da mangiare Porca miseria È questa la parte brutta Che mi mancherà Di quella città Che mi riempivano di cibo Chissà se di qua Mi riempiranno di cibo E un'altra cosa importante Che qui manca È la sabbia Con la senza sabbia Come faccio la malta? Eh Senza malta Come faccio i mattoni? Eh Qua c'è tanta Ambaradam Però Chip Essendo Spacca pietre Fabbro Potrebbe farmi la sabbia Con la pietra spaccata Ora Io posso seguire questa strada? Secondo voi? Madonna Quanta strada ragazzi Sarà un trasloco Lungo e pesante Manco fosse un trasloco In vita reale Che ho fatto qualche mese fa Porca miseria Porca di quella miseria Meno male che una strada c'è Ora Speriamo arrivi fino a casa mia Ecco qua Passi con quali soldi Con quali soldi non lo so Per aiutarmi a fare il trasloco Con il camioncino Questi qua Ci hanno il tre ruote Io con il carrello Ci metto 12 giorni Anche perché Se notate Ho tolto un sacco di claim Qua ho tolto claim Qua ho tolto claim Qua ho tolto claim Perché i claim che ho tolto qua Li ho messi di là Questi non li ho tolti Perché se tolgo i claim Mi fottono tutto Ora È vero che abbiamo un botto di roba Perché ne abbiamo tanta 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 Io ragazzi prenderei la roba principale Sì 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 Prenderei la roba principale Che ne pensate? Quindi Per esempio I tavoli da muratore E bla bla Ce li possiamo anche rifare di là Io mi porterei Via uno di questi Ok? Ragioniamo È come se ricominciassimo da zero Alla fine Mi porto via i negozi Qua ci vorrebbe la musica triste Ma oddio Che musica triste è questa? Perché? Porca miseria Allora Ma io da questo tavolo Riesco a prendere 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 Il Il carretto Eccolo qua Wood cart Lo prendiamo Lo porto in alto Io mi porterei ragazzi La clay E la vorrei Prendere con calma Mi porterei Tutta la malta Anzi Io comincerai a portarmi Tutti i muri In modo che Possiamo già fare Una piccola costruzione Di là Che ne pensate? Pinchon cinchon Che ne pensate? Pinchon cinchon Anzi A dirla tutta Lascerei questo Mi porterei la legna Voilà Ci portiamo in questo La legna E ci portiamo Altra legna Ok Sbarabam Queste li portiamo in mano Anzi Abbiamo anche Gli stockpile Va bene Primo viaggio Di trasloco Partito Ok Rifacciamoci tutta la strada Porca vacca Miseria L'ho già Oh andiamo avanti Amico Amico Hello Oddio Hi Signorina Zora Io me ne vado di qua Ma vuole una mano Con il trasloco Io lo so che le mancherò Vuole darmi una mano Con il trasloco? Sì Che bello Fì che se lo accetto Prendi il carrello Andiamo Oh raga La pagherò eh Sì Non faccio le cose gratis Se ne darò una statua Scelga una statua Lupo Lontra Bisonte Sì una statua Due statue Due statue Eh una del lupo E una del bisonte Allora se mi da una mano Col trasloco Le regalo Una statua Per ogni modello Ok No la metta qui Qui Arrova Qua 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 Capuccetto rosso Qua Qua Non si gira Se mi dai permessi Faccio io Ecco qua Avevo i permessi Me l'ha tolto Ah No no Giù 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 Non c'è la strada Non c'è la strada Non c'è la strada Non c'è la strada Ecco qua In realtà là c'è Vabbè comunque Metti giù Oh Non c'è permessi Oh Non c'è permessi Ecco qua Ok Ok glielo riempio Eh aspetti Raga Mi porto via Tutta la malta A sto punto Bam Lascio due spazi Lascio due spazi E mi porto il cibo Per forza Quindi mi porto Mi porto Mi porto Mi porto Mi porto Mi porto I cosi cotti qua Vai andiamo Ok possiamo andare Ah ma lei c'ha le mani libere Ma che 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 Dai andiamo A ballare si mette A ballare si mette Buongiorno Chi è? Eh? Perché ne so Buongiorno Non lo so Dopo che parla Ma non lo vedo Chi è? Ah no è il È il cervo Ma come parlano gli alci? Come si è? Ah 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 ma se a piedi qua i metimi sa come il carrello che non ti vedo a carrello ma vuoto pieno è pieno di ferro vaffanculo vabbè io ce ne trasloco e vengo lì ciao va bene va bene ci vediamo dopo mi sei qua zora ma dove dobbiamo andare è un po lontà allora aspetti era a sinistra no a dritto dritto scuola sinistra sinistra di qua di qua venga è un posto grande grande ma lei si vuole trasferire è pesante questo carrello ma cosa ci ha messo dentro aspetti aspetti allora dovrebbe essere di qua spero ma è troppo lunga è vero sa che forse non è qua non mi ricordo andiamo andiamo si è lunga la strada ma una volta di trasferisco rimango di lane ma loro già hanno una città bella è voluta non c'è nessuna città di là ah bene da farlo a zero ma lo faccio io allora e mo di qua dovrebbe essere non mi ricordo più non mi ricordo più oddio una montagna una montagna con la porta che porta con la montagna è una porta mi ricordo un passaggio mi ricordo se la qui si si è così ecco qua 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 c'è la ok ok che l'hanno sistemato io ma enorme di una volta ragazzi voi non lo sapete le tartarughe bloccavano i passaggi ti ricordi quando hai dovuto prendere l'arco è bisogno di cui fai andiamo andiamo è l'unica la strada è lunga ragazzi in questo video non mi taglio niente come se fosse una live ok ok ciao amici allora adesso io sono dove cacchio sono io scusa ma dove siamo mi sono perso nella mappa io sono lì a sinistra e a destra c'è chip qua a sinistra sono io ah ma qua c'è ci sono i miei claim del campo stavo cadendo di cotone ah io ti ho insultato inizio video allora è tuo sto claim grigio quale quello grigio di fianco a chip aspetta no sono io c'ho i quadretti quelli blu arancioni rosa e verde dove ah ok questi qua scacchi si a ok no a c'è un claim grigio col cotone e c'è un po rotto le scatola questo cotone no 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 ok ancora non ho fatto nulla ok allora io sono qui ma vediamo un po aspetti un attimo che mi fa da così sbara bene vediamo un po per terra allora qua ci può andare già il primo stockpile ma il tuo rosso e tu ho già questo claim non puoi piazzare qui perché ok arrivato il campanello mettiamo il punto casa ok io voglio mettere tipo verde e uguale e abbiamo bello il marco allora ho già svuotato i carretti possiamo fare il secondo viaggio logicamente ma devo prendere il carretto e si prendiamolo in mano non tocciniamolo qual è il mio adesso questo ma andiamo arrivo secondo viaggio ma se hai qualcosa da fare vai e no ti aiuto o se devi trasferirti intanto clema se no qua adesso si riempie già lo so dove sei arrivo io inizio ad andare a casa poi ti perdi se vuoi i tuoi dai che mi no non mi perdo oh guarda che ho trovato cosa io fotto non mi interessa roba pubblica si prende ma va bene buono io sono poveretto è dovrei cominciare da zero per colpa di quelli la ma andiamo io ladro io sì sì io ladro io aderisco tutto andiamo a casa secondo viaggio l'ho ok secondo viaggio allora il tuo carrello l'ho riempito il mio carrello l'ho riempito o anche le statue andiamo 26 andiamo popolo da che ti perdi andiamo allora la strada è sempre quella fai l'amore con nutella buona da zona però dai io lavorare ancora costruito io sto cambiando vita cambio aria hai preso il mio carellino non può sapendo le tue santa che spira dai vieni qua prende il tuo per del mio per di mio arriva ok possiamo andare e siamo quasi arrivati tunnel madonna ragazze che trasloco mamma mia che poi sembra vicino ma ce ne vuole il tempo è poi vissi non taglierò nulla in realtà qualche taglio sennò sarebbe troppo 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 noioso lo intanto ragazzi mi ricordo di lasciare like come sempre condividete commentate e vediamo se ci sta tutto in questo stocco siamo arrivati un po svuoto le mie statue o non rubare eh chi hai preso no niente vado a acclimare prenditi una stauta per ogni tipo che quella del pagamento allora il minimo è il minimo è il minimo se voglio e comandi rumore adesso non siamo qua non è l'obbligatorio mo allora lo stock poi perché qua mi dice che è impossibile per esempio aprile per scavare giustamente allora vediamo un po' già inizia scavare già così si parte qua eh meno male che non volevi più scavare oh chip 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 ti vedo in difficoltà la strada è qui eh vieni su discord si arrivo ma da dove cazzo arrivi questo carrello che pio oddio allora ragazzi raga e vedete ah beh sono due pizzettini ma scusami è uno qua giusto e uno qua almeno così dovrebbe essere vediamo un po' li appoggiamo chi e mettiamo giù l'ambaradam ma allora che emozione dovrebbe mi sa che dovrebbe avere il server sta iniziando alla chicchiare e voilà sì allora si rimane l'avviate il server per forza mettiamo via questo ambrogio e mettiamo via questo robo quelli sono i tuoi le divise sono le tue? l'ho sì le ho tose le ho divise qui e devo salutarmi anche l'inventario porca paletta quindi via no aspetta facciamo così dopo sistemo tutto con calma via 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 ora si fa solo il trasloco via tutto no i tavoli buongiorno buongiorno ciao amici ciao chip eh ma vieni in discord voi se hai bisogno ti aiuto ma è su discord è solo su discord no nel senso vieni su discord non stare in gioco ah ok ok aspetta mettoci i tavoli sto facendo il trasloco sei contento? eh ho visto ho visto dai buono anche io mi sto trasferendo a breve inizia mi seguiranno americani, cinesi, coreani, filippini eh spero di no vedrai vedrai allora svuoto buona guerra svuoto tutto e ci siamo eh io non so chi sta bloccando qua ok ho l'inventario bello oddio potrei anche fare un viaggio così proprio parlando indirettamente mi porto solo questo vai sono proprio vuoto 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 anche addosso a posto eh quanto te manca Lu? ma un paio di un viaggio forse Lu posso mettere posso mettere no qua ci facciamo la parola ora sinceramente però mi porto una cosa importante poi nel resto del trasloco facevo un calma avanti avanti ok cioè di là lascio qualche crema eh che calma che li libero lo spazio subito ma col cavolo eh ma infatti pure le costruzioni abbandono mica le tolgo le costruzioni fate pagare fate pagare ma vaffanculo sui bronzio allora chip stavo dicendo dimmi ora sei noti le costruzioni quelle belle belle non ci sono ancora no? poi dipende anche dai server da chi sa buldare eccetera però hai visto i primi video che la città era vuota guarda adesso con le strade con le cittadine ma si ma è macello è cambiato completamente si ma sei noti senza regole senza niente cioè sono i player che costruiscono tutto litigando spalleggiandosi facendo a spallate a chi metteva prima la strada guarda adesso tutto urbanizzato cioè io non sapevo neanche se ci fosse la strada la casa mia e la casa tua ma nemmeno io ma poi quando ci sarà il governo come funzionerà? è il governo e le leggi le tasse allora dipende da come è strutturato il mondo se il mondo è troppo inquinato arriveranno le tasse sull'inquinamento se c'è troppo schifo in giro con gli alberi arriveranno le tasse su chi butta giù gli alberi si si non me lo deve arrivare per forza ti possono mettere anche ah possono mettere la tassa ai più ricchi chi è più ricco mettono la tassa possono mettere la tassa sulle vendite ai negozi sui crafting su tutto mazza che figata però con la caccia e poi non è che dici devi seguire il regolamento o fare il rp è tutto automatico nel gioco io ti posso mettere che quando butti giù un albero ti toglie 5 dollari automaticamente quando rompi la roccia ti toglie 3 dollari si può fare però in quel momento in quel momento abbiamo la moneta tutti uguale giusto? quando ci sarà la moneta globale si ma non sei obbligato ah no? tu puoi utilizzare la moneta globale per comprare nel mondo ma da te compri solamente con la tua moneta ah beh non conviene però non conviene fino a un certo punto è vero che esisterà la moneta globale ma se arriva un gruppo forte e c'è più sua moneta in giro la moneta globale diventa la sua perché la moneta globale diventa la più famosa c'è anche la guerra sulle monete poi figata è tutta una guerra sto gioco Zora il carretto mi serve bellissimo è bellissimo Zora arrivo comunque con la tua nabaggine chip eh? stavo pensando se mi fai domande su cose che non sai insegno anche a chi guarda i video no? ah ma si si io ti vengo a rompere i coglioni anzi tu cuoci il ferro io c'ho del ferro concentrato da venderti 5, 10, 15, 20 concentrato? eh si l'ultimo stadio del ferro che poi diventa lingotto eh ah si si se Zora mi portasse questo carrello perché all'inizio l'ho comprava io dovevo fare il fabbro per quello che era il deserto ah poi da fabbro non so per quale motivo ho scelto un muratore e mi è rimasto il ferro e il deserto che non mi serviva ma chip lì che fa il fabbro è un po' una barzelletta poi tu che fai il fabbro in mezzo al verde adesso un po' di ferro te lo porto però quello c'ho ah tu invece chip dovrai farmi la sabbia con la pietra spaccata la sabbia pietra spaccata e se la metti in acquisto addirittura la pietra spaccata è un bel po' la portartene allora fammi vedere tu nell'arrastra mi sembra vai nell'arrastra sei a casa? si 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 ok l'ultima voce è la creazione della sabbia e a destra avrai tutte le le pietre spaccate l'arrastra sarebbe quello che si muove giusto? ah si eccolo concentrato concentrato di sabbia si sarebbe sempre la sabbia normale ah no si fa col silicone tag e il silicone tag sarebbero tutte le pietre spaccate te lo dico io qualunque pietra spaccata quante ne usi 20 mi sembra per una sabbia no 2 ah no 2 per 1 2 pietre spaccate e fai una sabbia a posto si quindi tu dovresti mettere qualora i muratori te la richiedono 2-3 arrastra solo che fanno sabbia 2-3 eh si come minimo metti metti a fare 1000 crafting luna con l'aggiornamento massimo e sei a posto eh per forza ma chi è Zora dili quando ho fatto la caverna in un server quella gigante gigante mi facevano i complimenti quella lì a piani ho fatto una caverna a piani chip larga 40x40 e ad ogni piano c'erano 12 stockpile e ogni piano era di un materiale madonna mia eh tutta quelle quella discesa larga per far passare i camion e in mezzo l'ascensore gigante madonna eh belli si ma l'ascensore l'ho visto no l'hai fatto vedere in un video giusto quello è l'ascensore piccolo quello delle persone poi c'è l'ascensore industriale che scendi col furgone aaa ci stanno fino a due furgoni dentro eh tu ne hai visto un cazzo questo gioco chip trattori le gru ma queste sono sempre tutte mod giusto no no il gioco tu stai scavando col piccone adesso vero sei miner si eh per se quando avrai l'escavatore sotto terra il trattore che scava ah eh 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 io non ho ancora arrivato il server allora ho messo a fare non ho messo a fare un cazzo ho preso la legna io faccio una cosa bastarda devo fare i stockpile non ho più stockpile porca miseria allora stockpile scorta bene fai due grazia grazia qua ok ok come sei come te la sei come ti senti chip che tra un po' avrai un muratore di fianco casa ebbè ci serve ebbè ci serve un muratore ah soprattutto l'agricoltore guarda ci serve abbiamo fatto i chilometri ma tu cosa vedi ma perché siete siete cuochi cosa fate ma chip ha sbagliato a mettere le stelline per esempio sì io sì purtroppo sì miss ha messo miner e potteri cioè come fai a fare ceramica se non passi dal muratore eh ma infatti no l'ha detto al prossimo wipe se c'è un wipe lei fa il muratore io faccio il mining e poi lei si specializza sul potter ci hanno rubato il lavoro ma tu sai che ci sono server e server è vero sì in che senso ci sono server addirittura quelli hardcore dove io vorrei giocare ah ah io poi uno ne cogerò anch'io c'ho dove è completamente hardcore e tu sei completamente costretto a comprare dagli altri quindi se sei miner se sei ma e devo fare gli stockpile se sei miner non puoi fare per esempio muratore o ferro se sei agricoltore non puoi fare il cuoco in modo che tu non puoi autofarti i lavori capito ah è bello così eh è tutto impostabile dal server l'hardcore e se tu se io metto che l'agricoltore è l'unico che può raccogliere se tu vai in giro a raccogliere i pomodori non ti li fa raccogliere è bello così però gli alberi possono farli solo i carpentieri o i tagliatronchi solo i tagliatronchi scusami neanche i carpentieri e tu hai 5 alberi al giorno la poter rompere tu normale il tagliatronchi quante ne vuole siccome noi lo volevamo fare io Luke solo che c'erano c'erano quelli che sbuffavano e che non volevano e quindi non l'abbiamo fatto più però secondo noi è la versione più bella no ma vabbè aspetta ma infatti io stai parlando io non ti vedo pronto che ansia no ti sento bassa e non ti vedo comunque parla dimmi mi senti meglio? un pochino dimmi Teo hai degli aggiornamenti uno o due ho i due però devo ancora allestirlo nel negozio non posso iniziare a vendere qua quindi io passi più tardi la di fronte a noi la vendono gli uno se vuoi iniziare ok grazie ok allora metto giro però aspetta io non c'ho spazio però devo scavicchiare che palla stavo dicendo in alcuni server invece che è lo stesso nostro wipe prima di questo non puoi fare gruppo quindi come tu tu io faccio questo e Laura fa l'altro nello scorso wipe non potevi per esempio ok no perché abbiamo visto tra virgolette le regole del paese del paese le regole del server in pratica massimo due no in questo wipe ah ok no qua non c'erano regole no in questo server non c'erano regole non le ho messe ecco perché ci sono le guerre le cose che però alla fine è appunto come wipe nudo e crudo come lo chiamo io dove la gente almeno fa esperienza sai ti spacchi le ossa qua dentro in un prossimo wipe più organizzato sai giocare meglio si appunto come dico sempre io è un prestigio cosa è il tuo carrello è lì davanti lo stop file quale ti dico e come ti ho detto ieri noi la casa l'avevamo fatta tre volte una volta l'abbiamo fatta un buchino abbiamo detto vabbò la seconda l'abbiamo allargata un paio di blocchi e alla terza abbiamo visto il video tuo consigliato dieci blocchi a posto rifamola di nuovo casa vabbè ma voi avete la residenza insieme si 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 non vi conviene ecco prego ve la dimenza perché non lo sai quando tu crei una residenza con altre persone ogni persona che metti ti dimezza il tuo operaggio in basso a sinistra quanto hai di per quello blu allora ho 22.1 e 3.7 ah e 3.7 ma in realtà sarebbe 8.4 7.4 ok perché 3.7 c'era tu e 3.7 c'è la miss ma quel 3.7 la residenza ti raddoppia ma quel 3.7 a che cosa serve al peraggio della stellina si aggiunge al tuo 22 per che è quello del cibo ok e in alto vedi le tue skill i livelli dei tuoi lavori si 2 2 3 si ma è per il totale il tuo peraggio ah è vero quindi ogni volta che tu rompi un blocco ti fa 0.1 per il tuo peraggio e ti sale il livello l'esperienza e poi metti il mouse sulla stella aspetta dual mouse ok si fra 4 giorni 18 ore fra 4 giorni 18 ore perché hai il peraggio 23 27 quanto è si 25.7 se lo dice xp multiplier vedi se tu quel multiplicatore lo aumenti quei giorni calano aaaaaaah è tutto e infatti il gioco si basa tutto intorno alle calorie e il peraggio della casa è per quello che la gente si fa le case giganti arredate perfettamente e dopo ci stanno quelli che fanno le stanze uno per uno e ci mettono in ogni stanza una cosa ma non puoi fare le stanze uno per uno perché non te le prende poi quando metti troppa roba uguale al contrario il gioco ti depenalizza ti toglie non puoi grifare il suo server c'era scritto meno 50% una roba del genere quello che puoi fare è fare tante stanze ma di avere anche posto e materiali eh certo fai tante stanze con poi c'è uno come di stanza non è manco una per esempio ah beh se è trasferito adesso sto perdendo dai lui il carrellino è qua dove sono io ma vi faccio vedere io che emulatore divento qua qua ci penso io ma io avevo un altro stockpile dove è messo qua arriva un attimo dietro ho trovato ok no storto allora ragazzi non vedo più il carrello di Zora vi faccio vedere come si danno i permessi a uno stockpile per esempio si entra in uno stockpile si va su autorizzazione cittadini si clicca su più si cerca chi volete tipo me trattino basso Zora bam ora Zora può accedere al mio stockpile vai metti la roba dentro ed eccola qui scaricato tutto bam si tolgo Zora vi faccio vedere anche come si toglie un cittadino che avete voi inserito e voilà fatto vi ho insegnato anche questo ora io direi o fare un altro viaggio o io bene o male la roba principale ce l'ho qui ai negozi li ho presi tutti quello che mi serve sono eh no devo per forza venire di là mi serve niente mi serve la lombra d'ameli come si chiama porca miseria i claim claim nel senso ho capito chip allora c'è soltanto un metodo solo per prendere i claim nel senso fare soltanto le pergamene oppure c'è altri metodi no no è l'unico l'unico è per quello che pergamene più avanti costano un sacco di soldi aaaaa tu sei costretto a comprare le pergamene dagli altri cioè tu non devi fare la pergamena solo nel tuo lavoro tu i lavori di impararli tutti la cosa principale è dove metti la stellina aaaaa ma una volta completate tutti i lavori come faccio ad avere le pergamene tu niente sono finita almeno che non c'è qualcuno in città che si è fatto la casa piccola e le vende aaaaa ok eh la guerra perché allora c'è la guerra nei territori aaaaa capito gli americani e i coreani si sono espansi così tanto perché gli italiani di fianco che poi hanno chiamato admin admin gli hanno regalato le pergamene gli vendevano i libri a poco si l'ho visto l'ho visto nel video di ieri beh c'è raggio quelli che hanno fatto hanno miliardi di pergamene perché sono in tanti in un'occupazione ecco perché in alcuni server i gruppi sono aboliti si sono tutti i gruppi chip apriamo facciamo un wipe e io te zora e altri facciamo un gruppo è normale che non giochiamo come adesso lo sai cos'è lo sai cos'è la cosa di fare il gruppo quella intelligente di fare lo stesso lavoro tutti quanti così arriviamo molto prima e produciamo molto di più rispetto agli altri ci sono diverse tipologie di gioco chip se siamo in quattro o ognuno di noi fa un lavoro e quindi siamo vantaggiati nel senso che ci prendiamo il materiale a vicenda e non si però siamo comunque lenti perché ognuno di noi fa un lavoro c'è un'altra tipologia siamo in quattro facciamo due un lavoro due un altro e quindi siamo leggermente più veloci o addirittura alcuni fanno tutti e quattro lo stesso lavoro tutti e quattro fabbri sai che vuol dire che tu hai quattro volte il ferro del tuo vicino e beh certo ti prendi proprio tutto il dominio e inizi a svenderlo perché poi essendo in quattro la faccia di monopolio si bravo e in pratica a posto di crearti la tua città ti crei proprio il tuo monopolio e vai a svendere a tutto il mondo ti serve il carrello si così sali molto più velocemente certo eh si fiega fiega allora io questo qua me lo eh ma qua non ci arrivo caspita vediamo qua ok ragazzi ho tolto i claim dappertutto quasi ve lo lasciate solamente quelli intorno alla casa e uno in casa vediamo un po' quanti ne ho ho questi qua verdi posso prendermi e ho questi azzurri che poi con calma avremo a prendere mi serve semplicemente no questi qua ce li andiamo a prendere questi qua azzurri sono ah ma io qua c'ho altri stock poi il porca paletta c'ho tanta clay dentro no teniamoli teniamoli poi li andiamo a prendere quello che invece voglio fare è prendermi il tavolo della ricerca che me l'ho dimenticato dov'è? qua dentro ok no questo mi serve e poi ma quasi quasi 15 pezzi di legno me li butto via è sempre legno bello anche i francesi sono arrivati adesso eccoli qua e sono entrati anche i francesi nel server signori eh 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 e ora diventa ancora più complicatolo eh sì eh sì tutto il mondo arriva da noi no ma che siri io ho saputo siri qua tutto il mondo è diventato un paese qua come si dice la canzone no tutto il mondo è paese ma tu come vieni a fare concorrenza scusa eh non ho capito dica ma tu verso qui fai concorrenza eh che vuol dire qua faccio concorrenza scusi simulatore anche tu no eh quindi simulatore anche tu no eh dove sei dimmi fammi vedere la tua concorrenza no no beh sto scherzando sto bello sto ah perché ti stavo spaccando il carlino in testa guarda sì sì no no sto a 300 metri ti lancio le pietre ti lancio guarda sto bello lontano sto bello lontano ok ok salve cioè io passo ma che è qui la muraglia di stockpile dove è l'altro eh sono c'è un trasloco eh dove le metti ok stessi americani ma io non lo so i coreani come si fa ci vuole la risposta non ne ho rispondere dobbiamo allearci tutti insieme ma che sta dicendo lo sto capendo raga allora la risposta cosa io non ti vedo a te che parli eh eh sono sempre slayer ah ieri ero invisibile però oggi sono invisibile per te io lo vedo oddio mi è scomparso la davanti se stai trasportato ah ecco adesso ti hai riconosciuto ma che schermo Zora 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 eh hai scritto apertura non apertura vabbè gra prossima apertura prossima apertura ok prossima apertura che figura di cacca ragazzi siamo giunti alla fine di questo video io il trasloco l'ho finito ora mi farò ancora un paio di viaggi a staccare la legna però non mette niente che acquista io con me prendo la somma sì però non chiudere il video dicendo che ho scritto male non è una figura di cacca adesso ti vedo dicevi che madonna niente uno ha messo in vendita mi serviva un tavolo però il problema è che lui mette in vendita ma non mette ciò che acquista quindi non posso prendere la somma eh contatto e diglielo sarà un novizio eh non c'è non c'è eh allora compra da un altro è l'unico al mondo che vende quel tavolo eh gli altri li fanno pagare tipo oggi 100 eh ho capito eh che tavolo è quello in pietra tavolo in pietra ah ma il tavolo 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 ah ma faglielo tu ma lo faccio io al tavolo dammi ancora 5-10 giorni te lo faccio eh ma guarda che faccio lo stesso tuo lavoro ma scusa tu fai il mio lavoro e perché non te lo fai tu il tavolo allora no vabbè faccio fonderia più che altro però oh ti devi decidere ma che sei embriaco faccio il tuo lavoro no faccio fonderia cioè nel senso volevo inizialmente volevo fare il muratore poi ho scoperto che c'eri tu vicino quando eri vicino ancora a noi che facevi il muratore e ho cambiato eh allora ricambia e hai fatto il tavolo che ti devo dire se no aspetta te lo faccio io e lo compri eh sì aspetta che me lo fai te dai a posto non ti arrabbiare non ti arrabbiare ma chi si arrabbiare dammi il tempo di fare il trasloco sono stanco tutto sudato sono tutto aspetta fai vedere ti asciugo la goccia di sudore oh guarda che ogni tanto veramente si asciugano la goccia sì l'ho visto l'ho visto vabbè ciao slayer ci vediamo ciao ciao ragazzi siamo giocati a vedere questo video un bacione e un abbraccio e ci vediamo al prossimo che trasloco pazzo grazie a Zora un gg a Zora per l'aiuto ciao amichi e un saluto a Chip per non aver fatto un cazzo ciao Chip è pure FK ciao 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 ciao